Succede che la sfoglia purtroppo stando qui all'aria si sta seccando molto velocemente per cui stiamo veramente correndo per poter chiudere almeno qualche tortellino e dare dimostrazione di questo. Dici, in quest'angolo, che cosa volete dimostrare in quest'angolo qui della sfoglia? In quest'angolo della sfoglia vogliamo dimostrare che siamo ancora in grado, nonostante il tempo dei nonni e delle nonne sia in qualche modo passato, siamo ancora in grado di fare la sfoglia in modo tradizionale, quindi niente macchinetta, sfoglia a mano, riempirli a mano, chiuderli a mano i tortellini e procedere con questi piatti, piatti che poi troverete tutti quanti nei nostri ristoranti e trattorie. Tutto questo, grazie all'associazione? L'associazione Piazza Coperta Le Pozze, dal 2008 presente qui a Monghidoro, in genere spazia tra il divertimento e la cultura questa associazione. Oggi presentiamo le paste tradizionali. Grazie. 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 Grazie.